Ben trovati da parte di Marco Fabriani, oggi parliamo di ambiente, parliamo di rifiuti del termo valorizzatore e lo facciamo con l'onorevole Gianmarco Palmieri che è presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma che saluto, ben trovato Palmieri. Grazie, ben trovato direttore. Dunque per risolvere il problema dei rifiuti, del trattamento dei rifiuti si è pensato, il sindaco di Roma ha pensato a realizzare, poi i tempi li vedremo, a realizzare comunque un termo valorizzatore e l'area ancora dovrà essere decisa, un termo valorizzatore che dovrebbe trattare circa 600.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Qualcuno dice è troppo grande, altri dicono forse poteva essere più piccolo, insomma comunque il fatto di questo termo valorizzatore si farà alla fine. Sì, è il tassello che mancava per la chiusura del ciclo di rifiuti a Roma dopo il lavoro fatto in questi mesi dall'amministrazione. Ricordiamo, ne abbiamo già parlato insieme, che già erano stati progettati e con quei progetti si sta partecipando a dei bandi del PNRR, due impianti di biodigestione anaerobica per l'umido, un impianto per la plastica, un impianto per la carta che ci consentiranno di chiudere il ciclo per la parte differenziata. Rimaneva questa questione enorme dell'indifferenziato, Roma ne produce poco meno di un milione di tonnellate, quindi la prima obiezione è quella di un impianto troppo grande. In realtà l'impianto è già al di sotto della produzione attuale perché si lavora per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati, in particolare per aumentare la raccolta differenziata, per evitare, così come ci impongono le linee guida del governo, il ricorso eccessivo alla discarica. L'inceneritore non elimina completamente la necessità di una discarica, ma consentirà di far sì che una discarica di piccole dimensioni di servizio per la parte residua, che sostanzialmente è un'inerte, serva, ma non sarà un mostro da un milione di tonnellate che in tre anni, in quattro anni si riempie costringendo l'amministrazione a rincorrere continuamente nuovi luoghi. Ecco, per intenderci dal gasificatore poi uscirà una sorta di cenere che andrà in questa discarica di servizio. Dal termovalorizzatore sì, uscirà un prodotto inerte che deve essere portato in discarica, ma è un prodotto che, ripeto, dopo la lavorazione, da quello che ci dicono i tecnici, appunto è un prodotto inerte e quindi non crea nessun tipo di problema. E odori. Un'altra cosa importante, qualcuno ha solo dato il problema ok al termovalorizzatore, ma poi la raccolta differenziata andrà avanti, aumenterà, oppure con la realizzazione del termovalorizzatore poi si farà meno raccolta differenziata? No, la raccolta differenziata andrà avanti, anzi si investirà, così come ha detto il sindaco Qualtieri nel Consiglio sui rifiuti, sulla raccolta differenziata. Uno, perché comunque dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati che oggi produciamo, perché anche il termovalorizzatore non sarebbe sufficiente se noi andassimo a continuare a produrre quello che oggi produciamo. E poi, ad esempio, il caso di Milano ci dice che l'equazione per cui laddove c'è una capacità significativa di termovalorizzazione non si fa differenziata, non è vera. Milano ha una significativa capacità di termovalorizzazione anche superiore a ciò che produce in termini di rifiuti indifferenziati, però è il grande comune con la raccolta differenziata più sviluppata d'Italia. Quindi noi, non solo perché è necessario, ma perché vogliamo farlo, oltre a chiudere il ciclo di rifiuti con il termovalorizzatore, andremo a lavorare per incrementare e migliorare la qualità della raccolta differenziata, perché anche questo è un altro tema, la qualità di come differenziamo. Al momento mi sembra di capire, c'è un'area così, in modo ufficioso, l'ufficialità non c'è dove realizzare questo impianto. E il costo o i tempi? No, i costi ancora chiaramente siamo in fase di progettazione, esatto, ma deve essere approfondito questo aspetto, così come i tempi dipenderanno poi dal momento in cui si arriverà alla progettazione, che ricordo necessita anche di un lavoro congiunto fra il comune, la regione e il governo, perché ad oggi il piano regionale non prevede che ci sia un termovalorizzatore e quindi è necessario che il sindaco abbia dei poteri straordinari, dei poteri commissariali e così come ha detto sta lavorando con governo e regione proprio per far sì di avere a disposizione strumenti straordinari che consentano di superare questo limite, questo vincolo posto dal piano regionale. Ecco abbiamo parlato prima dell'area che non vi è un'area ancora ufficiale dove realizzarlo, si è parlato di Santa Valomba. Sì, è una delle aree che è stata citata e credo sulle quali si stiano facendo degli approfondimenti, però al momento mi sembra prematuro poter dire qual è l'area visto che non ci sono delle limite di cerchezza. All'interno della maggioranza ci sono comunque situazioni politiche non d'accordo con questa realizzazione del termovalorizzatore? Sì, ci sono state delle differenziazioni su questo, in particolare da parte dei Verdi, da parte della lista di Sinistra Civica Ecologista, con i quali però il Sindaco ha avviato un confronto, un'interlocuzione, proprio credo oggi o ieri, insomma si è visto con Sinistra Civica Ecologista, a breve si vedrà con i Verdi e io credo dovremmo essere molto bravi, il Sindaco in prima battuta, a spiegare dati scientifici alla mano perché le obiezioni che vengono poste rispetto al termovalorizzatore sono sostanzialmente non fondate e questo è uno strumento che ci consentirà di chiudere in maniera ecologicamente più sostenibile il ciclo di rifiuti a Roma. Grazie a Gianmarco Palmieri, lo ricordo Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Dunque abbiamo parlato di rifiuti, del termovalorizzatore che Roma dovrà realizzare nei prossimi anni. Per il momento ci fermiamo qui, un grazie a voi tutti da Marco Fabriani.